Li conoscevano gli egizi. I romani, già dal 200 a.C., avevano dei manuali in cui minuziosamente ne spiegavano la coltivazione e il modo di prepararli. Li citano Teofrasto, Catone e Plinio. Gli asparagi vantano dunque una storia antica e oggi sono simbolo della cultura gastronomica del Veneto, buoni rappresentanti della città di Bassano del Grappa, nella loro espressione di OP. La stagione 2018 è cominciata in ritardo a causa delle basse temperature, ma pare essere già eccellenza. L'asparago si avvale di temperature medie superiori ai 12-15 gradi, per cui adesso siamo entrati in piena produzione. In questo momento l'asparago è l'eccellenza. È tutto pronto per questa 83esima edizione che si svolgerà domani in Piazza Libertà a Bassano del Grappa. L'83esima mostra concorso dell'asparago bianco di Bassano metterà in mostra i migliori prodotti. Accanto all'immacolato turione ci saranno i formaggi, asiago e morlacco, l'olio di pove, il fagiolo di lamona, il riso di grumolo delle abadesse. E alle 5.30 ci sarà la risottata offerta dai ristoratori bassanesi.